un caro saluto a tutti è un piacere essere qui con voi o condividere ancora una volta una gioia la nascita di una nuova stella il telaio c64 telaio unico che non può essere paragonato a nessun altro fatto a mano in italia e con amore personalmente ho dato un grande contributo allo sviluppo tecnologico della bicicletta negli ultimi 40 anni e non mi voglio fermare ho portato il carbonio la forcella dritta e ho portato anche il freno disco posso dire che il ciclismo mi ha dato tanto ma io ho dato qualche cosina in più perché vincere 61 titoli mondiali 11 olimpiadi 18 coppie del mondo 21 grandi giri non è da tutti e la storia continua vi abbraccio e vi faccio tanti tanti auguri Ernesto Pagliari grazie a tutti